E ciao a tutti ragazzi sono io Samuele K300 e ben ritornati in questo nuovissimo video Ragazzi davvero molte ma molte novità sono rimasto in attivo per circa 3-4 giorni E nel frattempo ho accumulato tutte le news che ci sono da sapere in questi ultimi tempi Appunto della season 3 Allora partiamo quindi col dire che in questa season 3 a quanto pare non ci saranno neanche così Non ci sarà un evento vero però forse un mini evento che dovrebbe essere presente Quindi che dovrebbe svolgersi il 22 agosto Quindi stiamo a vedere ovviamente sempre il discorso Rift ma ci ho fatto praticamente 2-3 video su quella roba Quindi andatevi a vedere sul mio canale Ovviamente vi invito ad iscrivervi e ad ammettere un bel mi piace Allora ragazzi parliamo della prima cosa che non è neanche troppo importante Però ve la mostro lo stesso sono le LTM che sono rimaste del Starbine Splash Le ultime che dovrebbero quindi essere attive Che appunto sono Tank Battle il 19 e il 20 Quindi tra poco avremo questa nuova LTM Poi Knockout e il Raid che è in squad Che sarà disponibile il 21 e il 22 agosto Poi The Gateway e The Gateway in duo in squad Che saranno del 23 al 24 e del 25 al 26 Per chi si fosse perso qualcosa del Gateway sarebbe la modalità La fuga della season 5 che è stata riprodotta in season 9 In season 8 scusate e poi nuovamente in questa stagione A quanto pare quindi questa matt Praticamente c'è sì e no Ogni tanto spunto Ogni tanto è molto molto particolare Come la sua skin appunto Jolly Che spawna nello shop ogni tanto e non sempre Una cosa ragazzi molto molto ma molto importante Che in realtà alla fine non lo è per quello che porto io sul canale Però ve lo faccio vedere Che è il nuovo pacchetto Chi ride bene ride ultimo Ragazzi qui c'è una grande parentesi da aprire Perché andiamo sul sito web tra l'altro della Epic Games Aspettate che vi ci porto immediatamente Dovete darmi un secondino il tempo Allora come possiamo vedere Qui ci dà delle informazioni Io sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere Però effettivamente Epic Games ci dà delle prime informazioni Scusate se vedete così ma la risoluzione purtroppo è questa Comunque qua ci illustra tutto il bundle Tutte le varie cose E il bundle quindi può essere fisico Quindi come il Darkfire bundle del capitolo 2 stagione 1 Non so se vi ricordate E dovrebbe uscire il 18 novembre Mi pare Ah il 17 scusate Il 17 Qui ovviamente vi leggete tutto con calma C'è l'articolo quindi fatto apposta E poi ragazzi ci sono Quindi 1000 vpacks E basta Poi tutte le varie cose E inoltre qua c'è una cosa C'è scritto quindi Inoltre arriverà il tempo per il lancio delle console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X Quindi molto probabilmente uscirà insieme appunto a queste nuove console Quindi andiamo avanti un secondo perché lì avete visto nelle finestre che c'è il twitter di Donald Mustard Perché dobbiamo vedere anche altre cose Di un tweet molto molto importante Allora Ragazzi parliamo della Rise Cup Anzi Rise The Cup Che si terrà esattamente il 18 agosto In pratica se riuscite a fare un tot punti nella Rise The Cup Che mi pare dovrebbe essere la squadra E otterrete l'emote appunto Rise The Cup Che sarebbe praticamente l'emote uguale a quella della World Cup Però con in sottofondo un ballo protetto da copyright Comunque GG per Epic Games Che è praticamente ormai copierata tutto E praticamente chi stream o chi fa video non può sentire la musica Perché è tutto protetto da copyright Però va bene Comunque E questa era una roba Adesso vi faccio vedere anche questo Ragazzi questo io sinceramente Devo dirvi la verità Non lo conosco E ne lo conoscevo Però ovviamente l'ho conosciuto appunto Nei social e tutte queste cose Lui ragazzi si chiama Drake Non so se è uno streamer Comunque giocava a Fortnite O ci gioca ancora adesso sinceramente non lo so E in pratica sarebbe Cioè è un personaggio ovviamente come Poco Lose Fruit Ninja In cui molto probabilmente Di cui ci Molto probabilmente ci faranno la skin Quindi sarà una nuova Icon Series Molto probabilmente Però ormai ovviamente Mi sembra scontato Nella prossima stagione Ci potrebbe stare Però sinceramente Non è un personaggio Si è conosciuto Però non ai livelli di Ninja Per esempio Che lo conoscono un po' Tutti quindi non saprei sinceramente Ovviamente poi Ancora non c'è niente Le file di gioco Molto probabilmente Ci sarà la nuova Icon Series Anche per lui Un'altra cosa Interessantissima ragazzi È Wolverine Perché Adesso vi faccio vedere Un poco tutto Allora Non ci credo ragazzi Mi sono scordato Di mettere l'immagine Mi sa Eh si Mi sa che questo Allora comunque Wolverine Per chi non sapesse Chi è Wolverine Ah no ragazzi Scusate Ok Non lo vedevo Allora Questo qui ragazzi È un Un Tid Un Licker Che è molto molto famoso E che non sbaglia quasi mai Mi sembra che dovrebbe essere Il Licker Quello che ha leakato Il fatto degli squali Quella con la canna da pesca In Season 2 Quindi in teoria dovrebbe essere Abbastanza affidabile Allora in pratica Un possibile leak Qui ci dice Epic sta pianificando Sta creando Pianificando La skin di Wolverine E Il suo Epiconi In Season 4 Quindi Sarebbe la skin Della Season 4 La skin segreta Della Season 4 E poi Nel Insomma Nel negozio oggetti Uscirà anche Il suo piccone Quindi non avremo noi In realtà Come quello di Aquaman Ma l'avremo Nell'Item Shop Come un poco Quello di Deadpool E quindi ragazzi Questa cosa è molto importante Per chi non sapesse Chi è Wolverine Ovviamente È l'eroe Della Marvel Ovviamente Non vi sto qui a dire Ovviamente Informatevi di più Ovviamente Vi faccio vedere Una foto Così magari Capite un poco meglio Ragazzi Una cosa molto importante Che molto probabilmente Mi sono scordato Di farvi vedere Ehm Ci sono delle nuove Emoji Non saprei adesso Come si chiamano Sinceramente Sono le emoji Quelli delle auto Che avevamo visto Nella patch 13.40 Che molto probabilmente Faranno Saranno integrate Nel pass battaglia Della stagione 4 Addirittura Hanno ragazzi Anche fatto vedere Alcune Alcune appunto Balli Cioè che poi Non si vedono Però ci sono i nomi Dei balli Però io sinceramente Non vorrei rischiare Quindi non vi faccio vedere nulla E poi È un pochettino Con un po' di spoiler Quindi Oh scusatemi Ho cavolo Mi è caduto il microfono Comunque Non mi piace Comunque Tanto ormai Manca veramente Unici giorni Manca Questa season Quindi È pure inutile Farvi vedere Queste robe Un'altra cosa quindi Interessante ragazzi Che vi volevo fare vedere È Mida Perché è ricollegato A Donald Mustard Adesso vi spiego Anche perché Tutto il resto Allora Noi vediamo qui L'immagine No Ma Non possiamo capire Vabbè È un semplice bundle Non è nulla Di particolare Insomma Invece no A quanto pare Ragazzi Nasconde Qualcosina Allora Noi vediamo Mida No In questa foto Scusate comunque La qualità Ma la potete vedere C'è Mida ragazzi Chi ha più o meno Gli stessi vestiti Di oro Però Oro diciamo Che già abbiamo capito Che comunque È in qualche modo È collegato a Mida Però ragazzi Lui adesso Ha gli stessi vestiti Però ovviamente È più tecnologico Ha anche un casco In mano Quindi GG Tanta roba Ma ragazzi Una cosa importantissima È quella di Donald Mustard Perché adesso Vi faccio vedere Il vostro somato K300 Che Vi fa vedere Tutto Adesso ragazzi Siamo su Su Twitter Perché Twitter ragazzi È la vita Fatelo Perché Si scoprono Un sacco di cose nuove E Ovviamente Epic Games Ha ufficializzato Il ballo Vedete Il bandolo Scusate Fortnite Vedete qui E E Donald Mustard Così A casissimo Gli Gli risponde Al tweet Che è Di Appunto Di Epic Games E sempre più personaggi Si fanno strada Verso zero Ovviamente Questa qui È la traduzione Vedete More and more Chargers are making Their way Towards zero And yes Midas Seems To be Doing just fine E si Midas Sembra Stare bene Quindi in realtà Ragazzi Ci dice che Molto probabilmente Tutti questi personaggi Che stanno uscendo Tipo Saranno contro Il punto zero Quindi non morirà Il punto zero Non è morto Noi pensavo sia morto Si è esploso il punto zero Ma in realtà Non è così ragazzi Molto probabilmente In season 4 Ci sarà il ritorno Del punto zero Ma soprattutto Ragazzi Midas Sta Sembra stare bene Quindi Quando è stato in realtà Mangiato Dallo squalo In realtà Non è morto Ovviamente Potrebbe essere Ironicizzata Sta cosa E si Midas Sembra stare bene Sembra Ironia Da parte di Donald Però ragazzi Io non l'ho preso Con ironia Perché Appena ho letto Sempre più personaggi Si fanno strada Verso lo zero Mi è venuto in mente E poi Midas Sembra stare bene Con una nuova armatura Con le nuove cose Quindi Un poco di Di robe Mi sono Mi sono Fluttuate Per la testa E quindi GG Comunque ragazzi Che dirvi Questo Questo è tutto il video Ovviamente Speriamo che tutte queste Noi se vi piacciono Comunque Come sapete Come avete visto In un video precedente Non sto facendo Moltissimi video Perché sono in vacanza Ovviamente Sto preparando Full guys Sto già registrato Adesso devo Soltanto montare E niente ragazzi Noi ci vediamo Un prossimo video Noi ci vediamo